Il blocco di corteccia in legno esiste fin dalle prime versioni di Minecraft, ma era impossibile da craftare fino alla 1.13. Cliccando con un'ascia puoi scortecciare un tronco. Fino alla 1.16 i tipi di blocchi erano questi. Poi sono state aggiunte le varianti del nether. Puoi essere bruciato in una fornace per produrre la carbonella. Puoi utilizzare il legno di giungla per coltivare il cacao.